Nelle Marche sorgerà in tre giorni un nuovo ospedale. Si tratta di una tenda da campo militare messa a disposizione dall'esercito a costo zero. Grazie all'interessamento del Vice-Segretario agli Affari Economici Alessia Morani, la proposta è arrivata una settimana fa alla Regione, che questo lunedì mattina ha risposto chiedendo di intervenire con l'allestimento. E proprio la stessa deputata originaria di Macerata Feltria, raggiunta telefonicamente a Roma, ci ha spiegato ora quale sarà l'intervento e anche il personale sanitario in arrivo per questa struttura. In un momento così drammatico per la nostra Regione è dovere di chi riveste un ruolo istituzionale come il mio, quello di cercare di dare una mano e di aiutare il più possibile la propria comunità. Per questo mi sono attivata già dall'inizio della scorsa settimana affinché il Ministero della Difesa potesse realizzare anche nel nostro territorio un ospedale da campo come è stato fatto a Bergamo, Brescia, Crema e Cremona. Questa mattina il Presidente Ceriscioli ha chiesto alla protezione civile un ospedale da campo, ci siamo immediatamente attivati, entro 72 ore arriverà la Marina Militare che monterà un ospedale con 40 posti letto Covid e altri 4-5 posti di terapia intensiva ed è una buona notizia poiché ci saranno anche 4 medici esperti in rianimazione. Credo che ognuno di noi debba dare il massimo, io sto cercando di fare la mia parte essendo membro di questo governo che ora è chiamato a affrontare una emergenza sanitaria ed economica che è straordinaria, un momento davvero difficile per il nostro paese e anche per il nostro territorio, per cui credo sia doveroso che ognuno di noi possa contribuire perché la salute dei nostri cittadini possa essere preservata al massimo. E poche ore dopo l'annuncio di questo nuovo presidio ospedaliero della Marina Militare, il Presidente della Regione Luca Ceriscioli ha comunicato di aver scelto come sede la zona dell'ospedale di Iesi. Al tempo stesso ha anche rinnovato l'appello alla protezione civile affinché si impegna a sbloccare l'arrivo del team di medici e infermieri cinesi che lavoreranno in una tenda da campo nella zona dell'ospedale Torrette. Nelle Marche inoltre sono ancora aperti i due progetti relativi ad altri due ospedali da realizzare entro breve. Quello che sorgerà nella zona dei padiglioni della Fiera di Civitanova, finanziato totalmente da privati per 12 milioni di euro, che saranno raccolti attraverso l'Ordine di Malta, a cui Guido Bertolaso ha affidato il compito di gestire il flusso di denaro con un IBAN specifico dell'Ordine. Inoltre è un altro ospedale da campo con 80 posti letto di terapia intensiva da realizzare vicino all'ospedale di San Benedetto del Tronto.